Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo le fettuccine! Tu vorrei aver messo 3 uova e 500 grammi di farina di semola rimacinata Ecco qui, pronta la vigna a fare le fettuccine Abbiamo questo attrezzo, vero? Per tagliare Che fa questo attrezzo? Taglia la pasta in piccole fettucce Così Così E allora? Dai, fortissimo si deve spingere Brava, eccole! Ecco E ora noi si prepariamo C'è un pezzo Questi sono due eccolo qui ecco qui adesso va bene e ora forte forte ecco qui quella mi sembra una pappardella che significa pappardella? una fettuccina un po' più larga forse sono due fettuccine attaccate si saranno buonissime già guarda per darvi la pappardella buonissime 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 eccole pronte per essere cotte buonissime 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 buonissime